a Seveso come acqua, conduttura dell'acqua, e io ho detto fate venire un tecnico e vedete c'è una macchina specifica per vedere se c'è una perdita, perché 6.000 metri cubi sono tanti, qui ci deve essere una perdita perché questa è perennemente sempre pubblica. Questa è il lago Niguarda? Questo è il lago di Niguarda, non confondersi con il lago di Niguarda che ha fatto, è su sotto le lutture dell'acqua, dai metri cubi che hanno detto No, sta dicendo che probabilmente è perdita d'acqua del lago Niguarda, della due a. Sì, nella cugnota, nel passaggio della cugnota qua, su quel tombino là e si buca. Non è una perdita d'acqua, la macchina bianca. Chi è quella macchina? No, la macchina bianca. E qua parcheggiamo dove ci pare piace, allora. Dottoressa, la mette dentro, lo ho aperto lì.